l'idea regalo che cercavo e qui al mercatino l'ho trovata il mercatino da forte dei marmi il più giovane consorzio della mitica versilia domenica ventitré dicembre torna a casella genova qualità e glamour per il tuo natale ti aspettano dalle sette alle venti in via aldomoro zona expo il mercatino da forte dei marmi pronti a sorprenderti